Sulla base dei dati di letteratura, al fine di evitare l'iperstimolazione ovarica, quali sono i dosaggi suggeriti da non superare? Ma in verità la domanda così come è posta non mi consente di dare una risposta con un cut off ben preciso, ce ne sarebbero ma sono astratti. In verità la dose è funzione della responder, cioè a dire noi abbiamo una popolazione di donne che vengono chiamate pur responder e con queste le quantità possono essere anche più generose ma purtroppo non esitano nel fare maturare i follicoli che noi vorremmo. Così come esistono delle high responder, cioè a dire delle persone che con basse quantità hanno delle risposte rilevanti. Quello che va detto è che comunque il famoso monitoraggio di un'induzione di ovulazione che si avvale oggi fondamentalmente di due parametri, il parametro ultrasonografico dell'ecografia che vede il crescere del numero e delle dimensioni dei follicoli che contengono le uova unitamente alla produzione degli steroidi ovarici specificamente dell'estradiolo in prevalenza, sono utili per dire alla dose somministrata oggi qual è la risposta che questo ovaio e non l'ovaio mi dà a distanza di poche ore. Sulla base di questa dose risposta si aggiustano il timing e il quantity of administration delle gonotropine che vengono utilizzate. Per quanto riguarda il ragionamento della iperstimolazione, l'iperstimolazione è una condizione che avviene in percentuali che vanno dal 2 al 5% o meglio avvenivano dal 2 al 5% finché si utilizzavano nel nostro paese delle induzioni dell'ovulazione finalizzate a avere molti oociti per la finalità di congelare l'embrione. Oggi questa pratica la fanno solo quei centri che stimolano molti oociti per fecondare i 3 embrioni consentiti dalla legge e congelare le uova sovranumerarie. Altrimenti altri usano delle tecniche di induzione dell'ovulazione meno intense al fine di ottenere al massimo 3 uova che poi vengono fondamentalmente fecondate. Quindi il discorso della iperstimolazione severa, quello di l'ambito al di sotto del 2% lo abbiamo un po' di meno e l'iperstimolazione media, quella dell'ordine del 3-4% le si hanno ancora con una qualche evidenza. Oggi si utilizzano sempre più schemi di mild stimulation, cioè stimolazione lieve o dolce, con le quali appunto si ottengono meno uova ma dei processi di maturazione secondo alcuni ancora migliori e più completi per cui le uova che si ottengono sono uova più idonee ad essere fecondate e da proseguire il procedimento dell'impianto, come se fossero meglio reclutate. Questo è quanto sostengono alcuni autori. Comunque è vero il fatto che non esiste un cut-off fisso, che l'induzione dell'ovulazione è ad personam e si vede monitorare nello specifico con i due indicatori che utilizziamo il terzo elemento che oggi la prevalenza è di cercare di fare delle stimolazioni dolci. Grazie 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 Grazie